Ciao, sono Sara e sono una studentessa al secondo anno del corso di laurea in Scienze Tecniche della Comunicazione presso l'Università degli Studi dell'Insupria di Varese. Ecco tre buoni motivi per cui ti consiglio questo percorso. Oggi è universalmente riconosciuto il ruolo della comunicazione all'interno della nostra società. Gli insegnamenti che ti propone questo corso di laurea sono sempre innovativi, pertinenti, capaci di simulare la tua riflessione critica e darti tutti gli strumenti utili per qualunque carriera un giorno tu vorrai intraprendere. Durante le lezioni all'Insupria si respira il vero ambiente universitario tramite i dibattiti, gli incontri con i professionisti e migliaia di altri stimoli grazie all'apporto dei docenti e al loro spirito dinamico. L'Università, specie negli anni della magistrale, può offrirti numerose occasioni di collaborazione per sviluppare nuove abilità professionali e inoltre ti permette di conoscere sempre nuovi studenti che con grande entusiasmo sono capaci di aiutarti nella tua crescita personale in un rapporto di reciproco e appagante scambio. Sei pronto a metterti in gioco? L'Insupria ti aspetta!